Ci confronteremo nelle prossime settimane con i candidati da La Valente a Lettieri, a Taglialatela, a Rivellini, a Brambilla, insomma, sono diversi e quindi ci confronteremo. Noi siamo alternativi a questo tipo di proposta politica. La Valente rappresenta una storia passata della città di Napoli, così come Bassolino. Noi andiamo avanti per la nostra strada e cerchiamo di convincere i napoletani a confermare questa esperienza di innovazione, di cambiamento, di onestà, di passione civica e soprattutto di protagonismo popolare. Napoli non ha mai vissuto una stagione di protagonismo popolare dei cittadini come in questi anni. Siamo avanti anche su Bagnoli. Noi non ci fermiamo mai. Bagnoli vinceremo.